La Sampdoria nel mirino del Frosinone, pronto a riprendere il cammino salvezza dopo la sconfitta di misura contro la Lazio. Il tecnico Marco Baroni riavrà a disposizione Francesco Cassate e Raffaele Maiello. Il primo ha scontato lunedì scorso la squalifica, mentre il secondo è tornato a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo, dopo l'influenza dei giorni scorsi. Buone notizie anche per Edoardo Goldaniga, che ha messo definitivamente da parte gli acciacchi fisici delle scorse settimane. Nella lunga lista degli indisponibili restano Francesco Bardi, Lorenzo Ariaudo, Niccolò Brighenti, Stefan Simic e Paolo Ghiglione, tutti quasi sicuramente out contro la Sampdoria. Problemi per Andrea Pinamonti, l'attaccante scuola Inter ha saltato la seduta mattutina di mercoledì per via di un attacco influenzale. L'allarme non è ancora scattato con Marco Baroni, che conta di avere a completa disposizione il suo attaccante per la sfida di domenica pomeriggio contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.